buonasera salve salve tutto bene tu che dici bene sono già in live sì ah fantastico ciao a tutti eccoci buonasera buonasera allora gonz sì esatto vedo che già conoscono sanno sono famoso eh sì eh sì beh allora noi finalmente ci vedi ma per la prima volta forse ci parliamo sì sì è la prima volta infatti sono onorato perché sei bravissimo tante interazioni in live però in chat io ti seguo ti seguo sì sì è così bene sono onoratissimo dai spiega spiega un pochino chi sei presentati cosa allora ciao a tutti intanto io sono allora il mio nome è un po complicato mi chiamo joe godoy gonzalez in arte diciamo gli amici mi chiamano gonz e sono un web art director mi occupo di web da troppo tempo dal 2000 circa sono ho sempre avuto questa passione anche un lavoro una passione quindi ho sempre portato avanti dei progetti web una volta erano i siti internet i blog eccetera e non aprite questo blog.it è da dove nasce il mio progetto che è un sito che esiste ancora e funziona ancora molto bene non aprite questo blog.it è andato a visitare e poi vabbè come come tanti ho portato i miei contenuti sia scritti ma anche appunto i video su youtube insomma l'abbiamo provate tutte dai diciamolo e poi a un certo punto sono arrivato su twitch e ho aperto il canale twitch dopo un inizio difficile perché non sapevo come dovevo muovermi ho capito che dovevo seguire gli altri streamer e imparare tutto quello che potevo imparare e quindi da lì ho iniziato a seguire anna enrico ricco silvestri un sacco di gente insomma anche ma anche i piccoli e anche piccoli hanno da da insegnarti e poi ho aperto ho aperto questo canale twitch che adesso adesso ora sto streamando come un pazzo e tu mi dirai che sei più esperta di me che faccio bene no come io dipende quantità sanità mentale per cercare di far crescere il canale guarda la costa non è vero mica tante ore di live costanza significa garantire un tot di ore c'è tipo una programma un palinzesso le persone sanno che dalle dalle 18 alle 21 e quando c'è le live improvvisate non c'è nessuno e mi dicono eh ma tu non noi non lo sapevamo quindi è fondamentale prima rafforzare quella parte la e poi dopo estendere sì ma almeno io così faccio così ho fatto il canale si occupa si occupa io dopo il scontato che lo conoscono in realtà va bene il mio progetto è un progetto molto avviato fuori da twitch quindi io poi faccio recensioni di film anteprime stampa mi vengono mandati i film eccetera quindi è un progetto che comunque nel suo piccolo è abbastanza avviato però su twitch appunto sta crescendo è da poco che che lo porto avanti quindi io faccio recensioni di film in live e poi vabbè di anteprime per esempio ieri sera ho visto l'anteprima stampa di cocaina orso non so per chi ama gli orsi e per chi ama la vabbè questa forse comunque è un film comunque è un film horror comedy che recensirò domani in diretta e anche unboxing di cofanetti insomma materiale di questo genere diciamo che è un canale per cinefili collezionisti di film amanti dell'horror in genere anche se diciamo gli altri media li cura un po' meno diciamo i videogame i libri li tratto molto molto meno più horror sul cinema horror cinema sì poi il mio canale comunque essendo appunto che twitch mi ha cambiato perché ti affacci in un mondo particolare e quindi accetti anche quello che arriva da fuori e quindi faccio anche recensioni di film non horror non necessariamente appunto horror e spaziamo cerchiamo anche visto che stessi stream ma tanto anche un po di di rompere la monotonia quindi e ti piace questa apertura quindi c'è il fatto che altre persone ti propongono cose quindi ti metti in gioco magari non lo so per me è fantastico perché comunque si cresce velocemente sia come modo di esprimersi come organizzazione ci sono tante cose che se stream i due tre ore al giorno per tutti cioè tutti i giorni o quasi ti devi veramente devi trovare delle risorse incredibili soprattutto a livello di creatività di contenuti che devi portare perché chiaramente io te poi so che altri miei amici dei streamer portano cose interessanti insomma non è che portiamo cose beccele cerchiamo sempre di portare argomenti interessanti e non è facile certo che se tu fai scemenze sul web come farebbe un ragazzino ma penso che anche lì a un certo punto le esaurisci le idee diciamo che è un prodotto abbastanza strutturato sai che cosa vuoi proporre ci sono comunque le informazioni adeguate che puoi aggiungere a quest'ultimo quindi insomma c'è una certa serietà può essere di nicchia su twitch parlare di cinema è la domanda che ti faccio hai ma per me non è più tanto di nicchia anche se devo dire che mi sto rendendo conto perché sono uscito dalla mia bolla di collezionisti e cinefili devo dire che anche per io non sono più un ragazzino si vede anche se maschero col cappellino e tutto mi sono accorto che il cinema non è più il media in testa alle preferenze dei ragazzi quindi va fatto riscoprire comunque è un po come un po la sorte del libro quando è arrivato il cinema e quindi così insomma è un tuffo nella realtà però è interessante cioè io ascolto tutti e in base a quello poi decido cosa fare in realtà io porto me se porto me stesso il mio amore per il cinema all'interno di twitch quindi per me è molto semplice se vedo una cosa interessante ne parlo e se ho delle idee le spongo soltanto film o anche serie tv e poi ti faccio le domande perché sono la prima io curiosa le serie tv io poi io porto anche comunque degli atteggiamenti per esempio porto avanti comunque la cerco di spronare le persone a conoscere il cinema anche insomma del passato e faccio l'esempio adesso abbiamo iniziato i video party ogni tot e il primo film è stato metropolis di fritz lang che del 1927 muto e comunque un film eccezionale quindi mi rendo conto che non sia semplice però se lo fai con una community uno streamer che ti sta simpatico è veramente è un po quello che non fa la scuola no cioè renderti divertente la cultura renderti interessante proprio imparare sì quindi faccio anche quello però come vedi poi vado anche all'anteprima al cinema del film più mainstream insomma cerco di variare ma perché nella mia vita io voglio variare non è che posso ancorarmi al passato o vedere solo quello che i grossi player ti propongono con uno sguardo nostalgico però comunque senza perdere la prospettiva verso il presente conoscere il vecchio cinema è l'unico modo per non dire castronerie quando si parla di cinema quindi è fondamentale perché spesso si parla di film si parla spesso del fatto che ci sono troppi remake oggi in realtà il cinema è fatto di remake da da un sacco di tempo per esempio quando è finito l'epoca del cinema muto è iniziata quella del sonoro e hanno rifatto tutti i film che erano muti in sonoro perché sentivano l'esigenza di raccontare quelle storie con una nuova tecnologia quindi è un continuo quindi cerco anche di portare un po di consapevolezza in chi vuole affrontare il mondo del cinema perché so che effettivamente c'è gente che ci vive tranquillamente senza io non so come faccia sinceramente per me è un amore incredibile cinema in generale tu sei anche un amante proprio dell'andare al cinema cioè ti piace proprio la oppure il film allora andare al cinema è bello perché c'è una qualità che non spesso a casa viene riprodotta anzi ultimamente sento di ragazzi che guardano i film nei cellulari questo è un po sembra una roba da boomer però ragazzi cioè non è la stessa cosa cioè prendetevi un monitor anche un iMac o un monitor anche da pochi soldi e guardatelo un po più grande il suo film perché se vengono fatte delle panoramiche dei paesaggi vengono fatti perché voi li sentiate dentro questi paesaggi come potete ficarvi dentro allo schermo di un cellulare quindi fate lo sforzo perché vi rovinate l'esperienza se no per quanto riguarda le serie fanno parte ancora di un meccanismo molto commerciale di mainstream quindi è difficile trovare serie che siano autoriali artistiche non che non esistano però è molto difficile quindi cerco di evitarle me le limito alle cose più interessanti e basta anche perché ti richiedono un dispendio di ore incredibile chiudo perché sono io poi essendo streamer come te poi vado davanti all'infinito non ti preoccupare anzi perché ho paura di avere poco tempo e mi vengono in te cose importanti c'è un atteggiamento abbastanza sbagliato secondo me che è quello di cercare qualcosa che ti occupi il tempo o voglio una serie che mi faccia che mi riempia tanto tempo non ha interesse nella quale no ti interessa che ti occupi che ti tenga compagnia ecco io vi invito invece a cercare cose che vi facciano riflettere quel tipo di film che sono sicuro avete visto tutti per cui poi per due o tre giorni vi tornano in mente vi aprono delle tematiche delle cose importanti io parlo anch'io un po' nel mio canale non come lo fa Anna però di temi sociali proprio partendo dai film quindi è forse la cosa più bella perché il cinema ti può far parlare di politica di socialità di emozioni di educazione emotiva di un sacco di cose fighissime e secondo me ti arricchisce è veramente un'arte e anche uno strumento molto bello per poter imparare le cose io sono d'accordo con te che almeno per come percepisco io il prodotto cinematografico il film fatto e finito e la serie tv veramente la sensazione è diversa poi sì l'una ci possono essere delle miniserie serie autoriali assolutamente è proprio la sensazione che ho quel carico emotivo che mi porto dentro nella visione proprio aver mangiato quel film invece la serie è proprio più quella fatto di essere più dilazionata nel tempo tiene compagnia però hai capito ti toglie anche quel carico emotivo non lo so dipende molti le guardano anche facendo altro e quindi le serie tv sono ripetitive anche nei concetti perché sanno che le persone le guardano mentre stirano mentre lavorano ma ultima domanda prima di farti andare via ti voglio chiedere visto che ti occupi dei film roba varia così hai visto due il eh no purtroppo non l'ho visto anche perché io cerco di vedere quello che posso però assolutamente non guardo film scaricati pirata e cerco di proporre questo atteggiamento eh che penso si sposi bene anche con il tema del sostegno agli streamer imparate a retribuire il lavoro e la qualità delle persone con i vostri con i vostri limiti chiaramente perché ognuno sta messo come sta messo però immaginate che il cinema è comunque come quando sostenete uno streamer non potete pretendere che migliori che sia bello che sia di qualità andandolo sempre a prendere a gratis e poi magari vi fate un mutuo per comprarvi l'iphone 14 che non fa assolutamente niente di più di uno xiaomi o un'altra roba andrei a vedere boa paura eh bio sì eh sì sì vado all'anteprima stampa il 20 aprile quindi diciamo che è un poste però tu a Roma se no ci saremmo incontrati no già la miseria si può fare una live insieme se vuoi sì 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 volentieri ho un vuoto però scusatemi io non ho l'età di Anna no ma che favore a me capita non ti preoccupare poi nel caso ci sentiamo allora che giorni ti possono trovare e anche ora sì scusami l'ultima cosa approfitto faccio uno spam proprio becero perché fa parte sempre del mio lavoro sono anche fondatore di un festival di cinema ora indipendente che si tiene a Milano quest'anno c'è la terza edizione al Santeria via Palladini 8 18-19 novembre è gratuito ed è un modo per incontrarsi tra amanti del cinema eccetera quindi se volete trovate tutto sul sito dragmitofest.it dai andate a queste occasioni mi raccomando grazie Anna grazie per lo spazio ma che figura ti è un piacere Gonzo veramente grazie mille mi raccomando seguite non aprite questo blog un anno eh per un anno non aprite quel blog non aprite questo blog di mamma mia l'importante è che non lo aprite prima ancora era Nakb per me quindi ragazzi mi raccomando non aprite quel blog questo blog vedete mi fate confondere mi raccomando ma chiamami Gonzo se ti viene più comodo è meglio si devono mettere in testa il canale l'hai capito Gonzo il canale poi il nome viene dopo bene bene grazie veramente Gonzo è stato un piacere mi raccomando seguitelo piacere mia ciao buona serata ciao a tutti ciao ciao ciao